Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sì, dunque Silvio Berlusconi ha quasi la mia età e quindi dobbiamo in un certo senso essere tolleranti con lui, nel senso che lui ha rivendicato la sua azione di governo, pratica di mare. Dove aveva riuscito a mettere insieme, a far stringere la mano al Presidente degli Stati Uniti, che era George Bush, insieme a Putin. E da allora lui ha sempre mantenuto un rapporto, il Presidente degli Stati Uniti sono cambiati, quindi probabilmente gli ultimi ne li conosce di meno, ma George Bush lo conosceva molto bene. Quindi dobbiamo essere tolleranti con lui perché è rimasto fermo in un altro tempo? Come? Dobbiamo essere tolleranti con Berlusconi perché è rimasto fermo in un'altra stagione? Io direi proprio di sì. Lei lo sente ogni tanto? Alla fine, no, io non ho avuto occasione di sentirlo. Magari gli poteva dare qualche consiglio. Sennò perché ci sono troppi filtri per arrivare a Silvio Berlusconi perché il suo telefono non ce l'ha lui in tasca e qualche di un altro che ce l'ha. E allora lasciamo stare. Presidente Dini è stato un piacere, grazie davvero per essere stato con noi, grazie a David Parenzo. Noi andiamo in pubblicità qualche minuto e torniamo ancora a notizie, gli inviati. Va bene. Grazie Presidente. Grazie, ho fatto piacere.